Di solito succede il contrario, ma stavolta è il libro che arriva dopo il film. Il romanzo è Bastardi e l'autore Stefano Amato è un blogger, ma soprattutto un giovane libraio di talento. Per la sua storia si è ispirato a Bastardi senza gloria, celebre film di Quentin Tarantino, di cui il suo libro è un vero e proprio remake letterario, con una particolarità. È un remake, una cover, una novelization, solo che al posto di essere nella Francia occupata dai nazisti siamo nella Sicilia occupata da Cosa Nostra all'inizio degli anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, alla vigilia delle stragi nel 92. Sì, ovviamente cambia perché non siamo in guerra, nel senso della parola, ma in una specie di guerra civile che insomma stava per scoppiare, o era già scoppiata in Sicilia. E poi naturalmente c'è la potenza della finzione, che sa essere anche surreale, l'eco del cinema che ritorna anche nell'escamotage centrale del romanzo, quell'idea geniale di attirare tutta la cupola mafiosa in un cinema, per farla finita davvero. Tutti, tutti i possibili, immaginabili appartenti alla cupola, alla commissione, come si suol dire. Tutti i nomi che ogni giorno leggevamo, ma leggiamo ancora oggi sui giornali, ovviamente cambiati per nonne, insomma, però tutti i nomi che ricordano quelli reali. Faranno purtroppo per loro una brutta fine, purtroppo per noi nella fantasia del romanzo una pessima fine pure, ma per noi buona. Un finale diverso, insomma, da quello al quale continuiamo ad assistere nella realtà, una storia in cui alla fine si celebra la vittoria dei buoni e non soltanto il nome di chi, come Falcone e Borsellino, è morto sul campo combattendo i cattivi.